Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per incidente 8 km di coda tra Empoli e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Per lavoro di messa in sicurezza del viadotto Ponzano all'altezza del km 24. Chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze con possibili disagi. Sulla A1 per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze l'area di Serravalle Sud sprovvista di GPL per un guasto. La viabilità cittadina a Firenze in via Zannetti per un cantiere edile chiuso il tratto via dei Conti via dei Cerretani. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.